Buongiorno, good morning Milano, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, mercoledì 27 marzo 2024, sotto l'acqua sta diluviando, siete usciti senza ombrello, vero? Bravissimi, avete fatto bene e adesso vi state lavando, vabbè dai, vi fate una nuova conciatura per oggi e sarà pronta, no? Come diceva il grosso guai a Chinatown, il vero uomo non prende l'ombrello, ma giustamente rispondeva, quello saggio non si bagna. Ebbene sì, comunque, questa è la giornata di oggi, ci aspettavamo da un po' di giorni in realtà questa pioggia, doveva arrivare, doveva arrivare, è arrivata e quindi buona Pasquetta a tutti poi, perché sappiamo che non ci libereremo di questa pioggia molto facilmente. E vabbè, e invece non vi liberate di me, come tutte le mattine qui in diretta su Crystal Radio dalle 7 alle 9, ma io non voglio invece per nessun motivo al mondo liberarmi di voi. E quindi 33178-53555, il numero di Whatsapp a cui potete scriverci per raccontarci quello che farete in questa giornata uggiosa, altro che uggiosa, fradicia, e quello che magari avete fatto nelle scorse giornate, o quello che avete in programma per questa settimana, o quello che volete fare, o che volete, qualsiasi cosa che vogliate raccontarci, potete farlo appunto al nostro numero di Whatsapp. Siamo qui apposta per voi, siamo qui per iniziare una giornata insieme a voi e per essere la vostra colazione, la vostra sveglia. Milano, siamo pronti a svegliarci, siamo pronti a farlo anche con un bel po' di musica, tanta qui su Crystal Radio, e iniziamo con Dito nella Piaga e Rettore. Chimica, Dito nella Piaga e Donatella Rettore, alle 7 e un quarto, alle 7 e 15, 7 e un quarto, bello, non diciamo mai, di solito questo è sempre una canzone in onda, non dico mai 7 e un quarto, quindi 7 e un quarto della mattina, molti si stanno alzando, buongiorno e ben svegliati e ben svegliate. E allora, un paio di giorni fa, sto leggendo già un po' di notizie perché oggi ne abbiamo un po', poi abbiamo un grande ospite nella seconda parte che non vi sto ancora a dire, vi tengo così in hype, così dopo vedrete, ma vi assicuro che un ospitone quest'oggi avremo. Dicevo, un paio di giorni fa c'è stato il Consiglio Comunale e nel Consiglio Comunale è stato approvato un ordine del giorno che, tra l'altro, chiede più autonomia ai comuni sulle politiche per la mobilità, di cosa stiamo parlando? Del codice della strada dei Salvini, per intenderci. Intant'è che, Sala dice, il tuo codice della strada, caro Salvini, è pericoloso per Milano. Il Comune di Milano, appunto, vuole più autonomia per intervenire sulla gestione della mobilità urbana e la viabilità stradale. È una del punto delle richieste contenute in un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale. Questa settimana, in vista del nuovo codice della strada, voluto dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nei non ancora approvato, grazie a Dio su certe cose, perché comunque ci sono delle cose un po' da sistemare. E quindi l'ordine del giorno, presentato da Marco Mazzei, da Lista Sala, sappiamo poi, Mazzei, insomma, il ciclista per eccellenza del Consiglio Comunale, eletto proprio con i voti di molto del movimento ciclistico milanese, è stato appunto approvato, firmato da numerosi consiglieri di maggioranza, chiede di eliminare le norme in contrasto col Piano per la Sicurezza Stradale 2030 e promuovere interventi normativi e finanziari per la mobilità attiva, il trasporto pubblico, il percorso per creare le città a 30, cioè quelle famose con limite di città a 30 km all'ora. Pensate che lo stesso ordine del giorno è stato approvato anche la settimana scorsa da Roma a Capitale e lunedì è stato approvato anche da Bologna e Torino. Quindi, insomma, le maggiori città italiane stanno chiedendo più autonomia nella gestione della mobilità urbana. Ricordiamo che la città a 30, che tutti dicono è una roba molto invece intelligente, nel senso che cosa succede? Si ribalta il paradigma, cioè si dice non dobbiamo fare le zone a 30, facciamo tutta la città a 30 all'ora. Poi, in alcune vie, vi facciamo andare a 50, a 70, ci sono discorrimento grosse, tipo il vialone di Bisceglie, per intenderci, ok, parliamo per questioni che conosciamo. Ci sono strade su cui si può andare, vengono fatte apposta, vengono anzi chiuse magari al traffico più dolce e date solo alle automobili, ai camion, alle moto e invece nel resto della città rimane il 30 all'ora. Ricordiamo sempre che è provato che a 30 all'ora, se si investe qualcuno, non lo si ammazza, a 50 all'ora è altissimo la possibilità invece di farlo fuori, cioè quasi completa, quasi al 120 di più a 50 all'ora in pieno, tu non ti rialzi più da lì. E quindi non è ideologie e basta, non è ambientalismo e basta, non è solo quella, ma è anche semplicemente poter vivere meglio le città. Io quello che chiedo soprattutto alle forze politiche della sinistra che portano avanti questa battaglia, che mi può anche trovare concordo con loro, è di smetterla però di farlo nel nome dell'ideologia, nel nome delle bandiere dell'ambientalismo, queste cose qua. Facciamolo nel nome della vivibilità di una città, che tu sia di destra, di sinistra, di centro, Movimento 5 Stelle o qualche, chiunque di noi se ha una città più vivibile è contento, chiunque di noi, quindi facciamo nell'ottica di rendere migliori questa città. Detto questo andiamo a vedere il traffico, perché quello per adesso rimane e c'è, ma per fortuna c'è anche luce verde che ci dà la situazione del traffico in diretta su Milano in questo momento. Schick, le freak, freak out, sì non dice Africa, no non dice Africa, no non dice freak out, dice sì, le freak, se schick così dice. Allora come va? 331-78-535-555. Buongiorno e grazie ad Alberto che ci scrive, buongiorno Fabio e buongiorno amici cristallini, grande serata, ieri con lo spettacolo musicale di The Coro, bravissimi, beh sì sì, e dopo le ore piccole questa mattina alle 6 già fuori di casa sotto il dubbio, ecco hai detto bene Alberto, dopo le ore piccole questa mattina è quello il motivo per cui io ieri sera non sono riuscito a venire al concerto dei The Coro che avrei voluto tanto tanto vedere, ma la sveglia della mattina per la trasmissione mi diceva no, non puoi farcela, non puoi farcela, e quindi per amore della cronaca e del morning show che vi ascoltate tutte le mattine ho dovuto rinunciare a questo bellissimo concerto dei The Coro sperando che magari ne faccia un altro un venerdì, così magari il venerdì io posso andare, allora ve lo dico qua in diretta, chiunque di voi mi voglia invitare a uscire a fare cose, io il venerdì sera sono disponibile, non c'è problema, il venerdì sera vengo dove volete, gli altri giorni è più complicato, però per la merenda del pomeriggio ci sono ad esempio, quello A volentirissimo, va a quello volentirissimo, comunque leggevo un po' di notizie e ho letto una notizia un po' particolare nel senso diciamo così, che adesso ovviamente non trovo, però ne ho un'altra scusate, allora no c'è una questione molto interessante, eccolo qua trovato, allora prima è una notizia un po' così nel senso, cosa è successo? Al Bicocca Village c'è il GameStop, il negozio, è stato derubato, bene sì, rubati videogiochi e console per 60.000 euro, beh non poco devo dire, alla faccia della rivincita dei nerd in questo caso, il colpo è venuto nella notte tra sabato e domenica, il negozio è stato trovato a soccuadro appunto dai dipendenti, ci sono le indagini in corso per risalire ai ladri, cos'è il bottino? Il bottino è fatto da console, videogiochi, action figure, tutto quello un po' che c'è in vendita nel negozio, 60.000 euro di merce, pensate, in questo blitz praticamente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ad accorgersi poi sono stati appunto i dipendenti che domenica mattina, intorno alle 11.30 quando si apre la domenica mattina, hanno trovato il negozio completamente sul quadro con diversi e diversi, appunto pari a 60.000 euro il valore, di prodotti mancanti e quindi insomma potrebbe, è stato un bel colpo appunto di questa banda di nerd, chiameremo così nel caso, ok? C'è di buono che appunto le indagini sono già in corso e una mano potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza del negozio che sono state appunto acquisite dopo la denuncia e immagino anche del resto del centro commerciale e degli altri negozi che comunque hanno lì le telecamere, quindi insomma se trovate in vendita in questi giorni su Vinted o su altre Wallapop, c'è Ebay, compagnia cantante, se trovate roba molto molto scontata fatevi qualche domanda mi viene da dire, quindi attenzione, attenzione se vi fanno un'offerta su, oh c'ho l'ultimo Super Mario a pochissimo, ecco, chiedetevi come mai e dove sta arrivando e attenzione che insomma è un reato poi, quindi state molto molto attenti, vedremo come andrà a finire questo colpo, 60.000 euro di merce rubate al GameStop del Bicocca Village, si va avanti con la musica, va bene dai andiamo con un po' di musica, poi ci fermiamo per una piccolissima pausa, musica italiana, la musica che potete ascoltare qui su Cristian Radio tutti i giorni, tutte le mattine, anche e soprattutto poi dopo di noi in Senti Questa ve la raccontano anche perché Ambrogio Curti vi racconta poi anche le grandi storie che ci sono detto alle canzoni, io invece mi limito a farvi ascoltare le canzoni come questa di Raf, ti pretendo! Apnea Emma, 7.36, oggi mercoledì 27 marzo, non capisco perché ho questo entusiasmo, effettivamente chiedo scusa, entusiasmo senza motivo, immotivato, comunque sono le 7.30, siete pronti per affrontare una nuova giornata e magari avete anche pensato di andare a fare una vacanza nei prossimi ponti, quello Pasquale, a Pasqua non c'è anche di ponte, però ci sono le vacanze delle scuole, oppure il 25 aprile, il primo maggio, e comunque magari avete pensato anche, visto che si risparmia, di prendere uno di quei pullman lì, quelli che partono da Milano e vi portano praticamente ovunque nel mondo, ma anche giusto quello che vi porta in Nicaragua, ma solo per motivi di oceano in mezzo, se no veramente, ormai c'è un pullman che vi porta ovunque da Milano, e abbiamo anche una fermata dei pullman internazionali, nazionali, c'è un hub, potremmo chiamarlo così, molto importante, è quello di Lampugnano, ecco, da Milano Today leggiamo grandi polemiche intorno a questo luogo, perché leggiamo appunto da Milano Today, fermata troppo pericolosa, i passeggeri dormono nelle scale di un palazzo per aspettare gli autobus, pensate, degrado e insicurezza al termine di pullman di Lampugnano e gli autisti sono costretti a parcheggiare i bus nelle vie del Gallaratese, perché non c'è posto nel lab, nel posteggio dei pullman, oltretutto scaricando anche i bagni chimici, quindi insomma pensate voi che bello è stare all'intorno, e sì, perché l'Androne e il vanno delle scale della palazzina di via Trenno 41 sono diventati ormai il rifugio notturno dei passeggeri che aspettano di partire con un autobus dal termine di Lampugnano in piena notte o al mattino presto, perché è troppo pericoloso aspettare al terminal, troppi di episodi di furti e rapine durante le ore piccole, e le strade intorno al Gallaratese, soprattutto via Checov, ma non solo, sono ormai abituale parcheggio secondario dei pullman, perché al terminal non c'è posto. E così gli autisti sono costretti a lasciare i pullman nelle vie diacenti, dove oltretutto poi devono scaricare i bagni chimici. È un degrado che appunto si ripercuote sul tuo quartiere, ed è appunto Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza del gruppo misto a Palazzo Marino, che lunedì 25 marzo ha chiesto che il gestore, che è l'autostazione Milano SRL, che gestisce anche il termine San Donato, sia convocato in commissione per chiedergli un intervento. Fedrighini dice, sarebbe utile anche in un sopralluogo, e sarebbe un sopralluogo da fare di notte, attenzione, perché la situazione del bus parcheggiati in giro per il quartiere e dei passeggeri è assurda, e i passeggeri preferiscono quindi dormire dentro lo stabile di Via Trenno invece che presso la stazione. Insomma, davvero qualcosa che non funziona, mi sa. Perché l'esponente del gruppo misto dice anche che l'autostazione Milano aveva vinto qualche anno fa un apposto bando, e alle casse comunali versa 150 mila euro più o meno in tutto per entrambi i terminal, e dichiara un affare di 1.600.000 euro per un utile netto di circa 300.000. Ma il concessionario dice non investe però in sistemi di controllo, vigilanza e sicurezza degno di un paese civile. Sono d'accordo. Dopodiché però sono anche d'accordo su un'altra cosa. Non possiamo pensare di fare le aste a perdi bandi senza dei vincoli. Far vincere quello che poi offre di più, ma che poi devi per forza risparmiare per poterci guadagnare, senza però l'idea di un intervento del pubblico. Cioè qui serve un intervento del pubblico, non solo del privato. Poi va bene, rifacciamo il bando se volete, diciamo che questi qui sono brutti e cattivi, che non è vero, secondo me non è tanto quello, quanto il fatto del... serve un controllo maggiore del territorio, ma serve soprattutto creare un hub che sia anche proprio strutturalmente fatto meglio. Non si può pensare di tenere un hub del genere, un terminal del genere per una città così importante come Milano. Perché sappiate che altrove è tutto diverso. Ah, se è diverso! Altrove con Morgan alle 7.45 minuti di oggi. Anzi, fatemi prendere un attimo momento però perché devo fare un augurio di buon compleanno. Ieri è stato il compleanno di una persona speciale che so che ogni tanto ci ascolta e ci segue. Sto parlando di nonna Adele. E sì, perché Adele, ieri la nonna Adele, Adele Cavallotti, ieri ha compiuto 104 anni. Auguri a nonna Adele. Tanti altri, altrettanti cento di questi anni, di questi giorni. Così, andiamo a 200. Raddoppiamo. Con l'euro quanto fa? Facciamo così, va bene. Tanti auguri ad Adele dopo la chiamo e glielo chiedo. Chissà cosa dice nonna Adele della questione stadio. Eh sì, perché ancora torniamo ancora una volta sulla questione stadio. Ebbene sì, perché leggiamo da Corriere della Sera. L'Inter, quell'altra squadra, mi spiace nonna Adele, dobbiamo parlare di quegli altri. Sono cugini? Come cosa dice nonna Adele? Ci sono cugini oppure io non ho cugini, come dice qualcuno. Non lo so. Lo chiederemo. Tanti auguri ancora a nonna Adele per i suoi 104 anni. Comunque l'Inter cosa dice? L'Inter sul futuro dello stadio San Siro dice è come scalare l'Everest. Non riusciamo a vedere la vetta. Così, perché cosa succede? Però nel frattempo dicono anche nessun paletto per la ristrutturazione, quindi non si capisce bene. In più salta fuori anche il ministro dello sport Andrea Bodi che dice noi continuiamo a pensare che San Siro debba ospitare le partite degli europei del 2032, ma attualmente non potrebbe farlo. Per come ora San Siro non è in grado di ospitare gli europei del 2032. Non si sa perché, però nel senso così, detto senza motivazione, cioè nel senso no, lo so quella motivazione, che volete fare un nuovo, punto, è semplicemente questo. Non si capisce perché vogliate per forza, cioè rimettiamola a posto, infatti Alessandro Antonello dice l'Inter non metterà dei paletti per il progetto di ristrutturazione di WeBuild. Non mettiamo paletti, siamo pronti. Quindi non si capisce più niente. Allora da una parte dicono che sono pronti a ristrutturarlo, dall'altra ti dicono che invece non va bene, bisogna mettere. Ok, allora così come adesso va sistemato, lo sappiamo benissimo, ma non è che per sistemare di buttare giù tutto e rifarlo da zero. Si può sistemare, lo sappiamo, ne abbiamo parlato più di una volta, ci sono i progetti e insomma capisco che questa, come dice l'Inter, è come scalare l'Everest, non riusciamo a vedere la vetta, queste parole prese dal Corriere della Sera Milano. Capisco che non deve essere facile, però ragazzi parliamo anche di una roba, cioè non è che state dicendo Luigi, Luigi, senti ciao, rifacciamo il bagno questa settimana, diamo una tinteggiatura alla cameretta dei bambini, ecco non è la stessa cosa, è un po' diverso, è leggermente diverso, come dire, è uno stadio, è una proprietà del comune, non è una proprietà delle squadre, quindi insomma capisco che sia un po' come scalare l'Everest, ma benvenga che sia così, benvenga che non sia facile, benvenga che non arriva il primo a dire, senti tira giù questo pilone, dà una piccolata qua, ma soppalchiamo qui che almeno ci saranno più persone. No, non è così che si fa, sarà lunga, bene, ma io so che Milano non uscirà alla grande, so che Milano uscirà con uno stadio rinnovato che sarà qualcosa da fare invidia a tutti quanti, e pensate anche questo, noi facciamo già invidia a tutti quanti con lo stadio di San Siro adesso, pensate se solo lo mettiamo leggermente a posto che cosa ne può venire fuori, e per il 2032 ce la facciamo dai, anzi ricordiamoci questo, dovremmo già mettergli mano prima, perché nel 2026 ci sono le Olimpiadi e la inaugurazione delle Olimpiadi del 2026 verrà fatta allo stadio di San Siro, quindi già lì sicuramente ci metteremo un po' a mano, ci avvicineremo sempre di più al 2032, quando arriveranno anche gli europei di calcio, e ne metteremo ancora a mano, e faremo un ottimo stadio per Milano. Pinguini tattici nucleari, Coca Zero, era un po' che non la sentivamo questa, ce l'ha mancata, e non è Coca Cola, ma è pane quello che viene dato nelle scuole milanesi, sì, torniamo sul tema del vetro e la plasma, vetro e altri oggetti nei panini, perché Sala è uscito ancora una volta a dire la sua, cosa dice? Allora, mense scolastiche, vetro nei panini, Sala contrario a sostituire Milano ristorazione, così leggiamo da Milano Today, dice potrebbe essere peggio, ho capito, è vero, lo capisco sindaco, però insomma non capisco perché potrebbe anche essere meglio, no, non si può pensare di andare meglio, non lo so, comunque dice il sindaco ha rinnovato le scuse, dice che i fatti non sono all'altezza della città, ma ha anche invitato la prudenza e ha avvertito che cambiare Milano ristorazione, ad esempio, spezzando il servizio su diversi fornitori, potrebbe peggiorare la situazione, quindi non si capisce mai se ha senso fare sempre l'unificio, esco fuori tema, scusatemi, ma qui è come la storia del riscaldamento in casa, allora siamo passati da tutti che avevamo un riscaldamento centralizzato, quindi nessuno aveva la caldaia in casa, così, poi a un certo punto intorno agli anni 80, fine 80, inizi 90, anche un po' prima forse, tutti che, no, ma come, non c'è l'autonomo, ma come, non c'è il riscaldamento autonomo, ma no, devi fatti la caldaia autonoma, ma sì, ma risparmi una cifra di soldi, tutti a farci la caldaia autonoma, tutti quindi a spezzettare il servizio delle nostre case. Trovatemi adesso una casa che abbia la caldaia autonoma, non ce n'è più una, tutte quelle nuove costruzioni fanno centralizzato con poi la tecnologia delle isole, quello che volete, termostati autonomi, tutto quello che volete, ma non ce n'è una che faccia il riscaldamento proprio autonomo come quello di una volta, come quello che c'è in casa io per intenderci. E anche qui, no, non si capisce mai se il servizio, allora è meglio avere un fornitore unico che dia tutte le scuole milanesi, oppure torniamo come una volta quando, magari non proprio come una volta, come tutte le scuole, ogni scuola aveva una cucina una volta, ogni scuola aveva la sua cucina e faceva per i fatti suoi, punto. Era meglio? Era peggio? Facciamo che dividiamo per plessi, per zone? Ogni municipio avrà il suo distributore di cibo in quel municipio? È meglio? È peggio? E qui non si capisce, veramente non c'è una risposta, ogni volta è, si arriva a un punto, no, 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 dobbiamo rifare e tornare indietro e smontare. Tutto centralizzato? No, 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 decentralizziamo che l'Emei. E qui non si capisce quindi alla fine come sia la storia. Quindi la domanda fondamentale che esce fuori da questo articolo di Milano Today è, ma in casa io la caldaia me la devo mettere autonoma o avere il centralizzato con tutto il condominio? Questa è la domanda che i milanesi si pongono tutte le mattine quando si svegliano. Non lo so, almeno io no, poi magari qualcuno vuoi sire. Luna Pop con qualcosa di grande. Wow, che pezzo. Era 99, pensava. Era 99, invece sono le 8 e 0, 9, anzi uguale a 3, 2, 1, 8 e 10. Eccoci qua, sono le 8 e 10 in questo istante. Bentornati a Good Morning Milano, bentornati su Crystal Radio, 331-7853-555 il nostro numero di WhatsApp e andiamo avanti a leggere un po' le notizie che troviamo sui vari giornali. Torniamo ancora sulla questione della scuola di Pioltello perché è scuola chiusa per il Ramadan. Mattarella scrive alla vicepreside di Pioltello e dice apprezzo il vostro lavoro. Stiamo leggendo la Repubblica Milano perché il presidente ha risposto alla docente, pensate che aveva nominato Cavaliere del Lavoro due anni fa per l'impegno durante il Covid. Dice apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi d'istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo. Queste sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso il proprio supporto alla scuola Iqbal-Mashi di Pioltello dopo appunto la decisione di chiudere le aule per il Ramadan. Parole che appunto parecchiano un po' spezzare via tutte le varie polemiche o almeno questo forse era l'intento ma sicuramente invece non ce la faranno. Ormai caro presidente neanche lei riesce più a togliere di mezzo le inutili e sterili polemiche che ci sono intorno alla questione della scuola di Pioltello. Alla fine comunque ricordiamo che la scuola nonostante il ministero abbia detto dovete rivedere, qui c'è qualcosa che non dovete rivedere, noi hanno detto rivediamo, la scuola ha detto rivediamo, rivediamo e chiudiamo. Abbiamo risistemato la delibera che fa chiudere la scuola il 10 di aprile, sembrerebbe appunto che in realtà tirino via alcuni giorni al ponte del primo maggio così che si possa chiudere quel giorno e all'unanimità il Consiglio d'Istituto ha rinnovato appunto l'intenzione di chiudere nella data del 10 di aprile festa di fine Ramadan e che appunto vedrà tantissimi degli studenti di fede islamica appunto partecipare alle feste. Ma ricordiamo che una cosa che mi ha colpito tanto, che il preside l'ha detto fino all'inizio, il preside ricordava che molti degli studenti non di fede islamica vengono comunque invitati dagli amichetti alla festa, cioè è come forse una grande festa di compleanno, di Natale, di Pasqua, cioè tutti, non so voi ma io a Pasqua ho qui 20 persone, continuo a invitare gente, tra Pasqua e Pasquetta continuo a invitare gente, ho la casa in base da persone e sarà così anche il 10 di aprile in quel di Pioltello per la festa del fine Ramadan, quindi tutta la comunità di Pioltello naturalmente si unirà intorno a questa festa e gran parte appunto non andava a scuola, non sarebbe andata a scuola e quindi ecco da lì l'idea, la scelta di chiudere, l'istituto in quei giorni e quindi arriva anche la parola del presidente che sta appunto con l'istituto di Pioltello e che dice sì, si deve, anzi complimenti per il lavoro che state facendo. Ma tanto sono già sicuro che ne riparleremo anche domani, sono già sicuro, le polemiche non si fermeranno mai. E' così, e niente, questo è il momento, questo è il tempo, questo è il nostro tempo signori. E' niente, 8 e 16 minuti, Crystal Radio, good morning Milano. E adesso parliamo un po' di politica, eh sì, so che, eh che due balle, no ragazzi, allora lo sapete, anzi, troppo spesso non parliamo di politica, invece dobbiamo parlarne, perché è importante, è una cosa importante per noi, la politica è sempre parte della nostra vita, non dovete confonderla con il partito, con le beghe, con le robe lì, quella è un'altra roba, la politica poi è fondamentale. Ma in realtà in questo momento però andiamo a parlare anche di partiti, perché parliamo delle elezioni europee e da Repubblica Milano leggiamo la notizia che riguarda Milano, perché riguarda Milano, perché elezioni europee. Forza Italia perde Gabriele Albertini, l'ex sindaco rinuncia alla candidatura in tandem con la Moratti. La scelta è irrevocabile, dice, grato e onorato della stima, ma non mi candiderò. Potrete contare sul mio sostegno in campagna elettorale, ma non mi candiderò. Letizia Moratti rimane quindi il nome forte nella lista in Lombardia. E quindi alla fine, anche questa volta, è arrivato il no di Gabriele Albertini. Sono tanti, no, che stanno arrivando ultimamente da Albertini, nel senso che l'ex sindaco di Milano, che era già stato europarlamentare dal 2004 al 2013, ha declinato l'offerta di presentarsi appunto nelle liste di Forza Italia per le elezioni del 9 giugno alle europee, comunicando appunto la notizia al segretario del partito Antonio Tajani e a Letizia Moratti, che dovrebbe essere quindi la capolista. Il ritorno alla politica quindi non ci sarà per Albertini, che sappiamo spesso è stato richiamato come un possibile candidato in varie liste. L'ultima volta era il 2018, quando appunto finì il mandato in scelta civica, ma poi mai più tornò alla politica. Nel 2021 qualcuno aveva chiesto che si candidasse di nuovo come sindaco contro Beppe Sala, ma alla fine rinunciò anche lì. Su questa questione vi invito ad andare sul nostro sito Milano All News a cercare un'intervista fatta un annetto fa più o meno a proprio a Gabriele Albertini, mi ha fatto un bellissimo giro intorno alla città, un giro per la città, nel centro, l'ha portato anche in Piazzale Selinunte e abbiamo parlato di tante cose, un'intervista molto a cuore aperto con me, ha fatto l'ex sindaco Albertini, quindi sono proprio contento, dove raccontava anche il perché appunto del suo diniego a ricandidarsi e anche al suo volere di fare politica ma cercando di non ricoprire più ruoli così apicali come quello del sindaco. Lui definiva il fare il sindaco come un sequestro di persona coscienziente, che lo sai, lo fai volentieri, ma è comunque questo questo di persona, non hai vita per i cinque anni, non ci sono orari, sei al servizio a città, dice, è un'esperienza bellissima che mi è piaciuta tanto fare ma che appunto non rifarebbe anche dicendo in vista e guardando anche i tempi che sono cambiati in cui comunque il sindaco non è più quella figura che poteva secondo lui fare così tanto quando lui ha fatto il sindaco. Un politico ne parla molto, parla molto di politica, parla molto di quanto sia importante sapersi avere delle idee, quanto sia importante avere delle politiche e arrivare da un'area ma una cosa che mi ha colpito nella sua intervista, dice anche una volta però che si è sindaci bisogna anche mettere da parte le proprie idee, le proprie ideologie, i propri ideali a volte, più che altro le ideologie, le proprie convinzioni soprattutto e dialogare con gli altri per capire che insomma il sindaco deve fare il bene di tutta quanta la città, sia di chi ti ha votato, sia di chi non ti ha votato e quindi ancora una volta niente, Gabriele Albertini non va all'europea. Fabi Fibra stavo pensando a te e io stavo pensando invece a ieri, la notizia che ha dato ieri del bonus, no il bonus, dell'indennizzo per i ritardi dei trasporti di Trenord che non sarà più automatico, dovrei fare richiesta, sarà comunque il 30%, ieri è andata una notizia dicendo bella roba che hanno fatto, ecco ovviamente oggi i pendolari lombardi si sono fatti sentire, i pendolari lombardi da Repubblica Milano all'attacco di Trenord, l'indennizzo per ritardi e cancellazioni è solo una beffa, i comitati dicono dopo 4 mesi dall'avvio del nuovo contratto di servizio la montagna ha partorito il topolino, così dicono, benissimo, l'hanno presa bene devo dire, eh sì perché i pendolari che viaggiano ogni giorno sui treni regionali definiscono una beffa l'indennizzo che va dal 10 al 30% al posto del bonus sui ritardi e le cancellazioni di Trenord è deciso lunedì dall'assessorato alla regione ai trasporti e dall'assessore appunto Franco Lucente che scatterà da aprile. Cos'è successo? I cinque rappresentanti nominati dalla conferenza del trasporto pubblico locale che sono Franco Agio, Manuel Carati, Giorgio Daho, Andrea Mazzucchelli e Franco Ninno, c'è una donna, comunque complimenti. Dopo 4 mesi dall'avvio del nuovo contratto di servizio la montagna ha partorito il topolino dicono, a conti fatti, secondo i rappresentanti dei pendolari con le nuove regole, i viaggiatori abbonati pagheranno 3 volte di servizi quando acquisteranno l'abbonamento con l'indennizzo da chiedere personalmente che maturerà assai più difficilmente rispetto al precedente bonus e con uno spostamento delle risorse finanziarie dalle penali che anziché ristorare saranno dovolute a non meglio definiti quantificati utilizzi, cioè nel senso che prima i soldi delle multe, diciamo, dell'indennizzo finivano appunto per ristorare poi i pendolari, invece adesso verranno usati per altri motivi e questo quindi dicono non va bene, non va bene, le tratte sono sempre le solite, la Milano-Pavia Mortara ad esempio non è una di quelle linee martoriate, pensate che la linea Milano-Pavia Mortara dice Franco Agio, che è uno appunto dei delegati che ha raccontato ieri questa storia, dice questa linea ha maturato il bonus per 20 mesi consecutivi, capito? Pensate quanti, 20 mesi, ma l'hanno abolito perché adesso c'è questo nuovo, diverso ristoro che devi farci far richiedere per l'indennizzo e quindi l'hanno perso, questi quei 20 mesi per ora sembrano persi ed ecco quindi perché sono sul piede di guerra i pendolari che come sempre insomma hanno un bellissimo rapporto con Trenord, complimenti sempre a farsi tanti tanti amici, andiamo avanti con la musica, un pezzo che vi lascio sentire solo la chitarra perché è già solo quello che vi fa capire quanti sultani ci sono dello swing, Dire Straits, Sultans of Wing E questa è la risata che molti di voi si sono fatti quando abbiamo parlato di Trenord risata isterica vorrei dire sicuramente, tanto che su Repubblica questa mattina c'è anche un interessante articolo di Marco Belpoliti, il titolo è interessante, un giro del mondo in 80 ritardi, nella ricca Lombardia si viaggia sui treni di Trenord come in un regime sovietico attenzione che però nei regimi si sa che i treni arrivavano in orario quindi anche qui in realtà non è proprio così, perché la domanda che ci si fa ogni giorno è quando si prende un convoglio della società regionale, dice appunto il giornalista qui su Repubblica è ma è possibile che ci metto un'ora per percorrere 56 chilometri in una regione che ha il PIL praticamente di un piccolo stato europeo? Ma come si fa a circolare così? E l'articolo spiega molto bene quali sono tutte le varie assurdità che i pendolari ogni giorno si trovano a trovare sui binari e non di Trenord perché dice prima di tutto il materiale rotabile che la società nata dalla fusione tra gruppo FNM e Trenitalia offra a noi pendolari è vecchio, maltenuto, maleodorante e di sicuro da rottamare entro breve. Eccoli lì i vagoni sul binario, vecchi fantasmi di un passato post bellico che neppure nelle ferrovie del più scassato servizio ferroviario nazionale o regionale verrebbero offerte ad altri viaggiatori e dice soprattutto questo nella regione con il maggior PIL d'Italia pari appunto a quello di un piccolo o medio stato europeo. Ma quando ci sono poi comunque quelli nuovi dice quando i vagoni nuovi di Zecca ti aspettano miracolosamente sui binari con il loro colore inconfondibilmente verde i taci così dice presto ti rendi conto che i progettisti non devono aver mai viaggiato molto come pendolari dato che al netto della pulizia si tratta di mezzi di trasporto dotati di scale interne, piani inclinati, nicchie, sedute che non favoriscono certo la percorribilità a chi ha problemi di diambulazione o, peggio ancora, deve salire a bordo con una carrozzina disabile. Attenzione, ma io dico anche, l'ho preso un paio di volte, anch'io che sono grande, grosso, sono proprio scomodi, sono belli, bellissimi, se facessero parte di un videogame me li prenderei, ma scomodi, scomodissimi. Io quello che non capisco è perché non si copia dagli altri e infatti lo dice anche l'articolo, dice basterebbe copiare un pochino dalla vicina Svizia, no? Dice poi per non parlare poi del passaggio al biglietto cartaceo di plastica che per realtà non ha tolto nessuna carta perché tutte le rivendite quando vai a fare la ricarica del biglietto di plastica cosa fanno? Ti danno lo scontrino e quindi comunque c'è la carta lo stesso, quindi doppia carta ancora. L'articolo è molto lungo, ben scritto, ve lo consiglio da Repubblica Milano perché è un racconto di quella odissea che tutte le mattine tantissimi nostri con regionali, chiamiamoli così, con cittadini, devono affrontare cercando di semplicemente fare che cosa? Andare magari a lavorare. Perché come quello, no? Perché tu dici vabbè sto andando a farmi una vacanza, posso anche accettare che magari il mio treno parte in ritardo e così, ma treni in ritardo, ma soprattutto, quello che dice anche il giornalista in questo articolo, un buon numero, lui dice uno su tre, poi andremo a vedere, di treni cancellati, cioè che neanche partono, che neanche si vedono arrivare sulle banchine della stazione, a cui tu sei lì, che aspetti? Donna Summer, Hot Stuff, 331-7853-555, grazie mille per i whatsapp che ci state scrivendo, in questo momento ci scrive Katia, che ci dà una bella interpretazione su come potrebbero essere gestiti i ritardi, dice i ritardi sono accettabili solo se parti in anticipo di un giorno, effettivamente non è male come idea, non è male e conclude con un buongiorno a tutti. Allora buongiorno anche a te Katia, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari si stanno alzando in questo momento, o che in questo momento invece sono magari su un treno di Trenord e stanno scuotendo la testa dicendo è proprio così Fabio, proprio così, ogni mattina è così, ma sappiate che se sei andato in macchina, è uguale, vogliamo parlare, collegarci con qualcuno sull'A4 in questo momento, che ci racconta com'è colorata e variegata la coda di questa mattina, perché ogni giorno è così, e questo è il grande prezzo da pagare per stare in una città come Milano. Ne vale la pena, non ne vale la pena? A voi la sentenza, io questa città la amo, e non posso fare nient'altro che raccontarvela tutte le mattine qui a Good Morning Milano. Emi Stewart con Friends, alle 8.52 minuti, perché voi siete i nostri amici, e sì, siete voi che ci ascoltate tutte le mattine, tutti i giorni, condividete con noi la vostra routine mattutina, e quindi non potete che essere i nostri amici, anzi, posso dire la verità, io mi sento veramente come fossimo una grande famiglia. Eh sì, la grande famiglia di Good Morning Milano, tutte le mattine qui su Crystal Radio, sì, io credo proprio che noi siamo una grande famiglia, anzi, we are family. 8.56 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, volge al termine. Non prima però di fare gli auguri ancora una volta, in conclusione ho un'altra ascoltatrice che per noi è fondamentale. Sto parlando di Maria José, che oggi, proprio quest'oggi, fa gli anni una donna straordinaria che, pensate, ha accolto nella sua grande famiglia anche il piccolo Fabio in tempi non sospetti. Quindi sì, Maria José, grazie di tutte quelle volte che ci hai fatto sedere alla tua tavola. Tanti auguri e buon compleanno ancora. Dopo di noi, invece, lo sapete benissimo, c'è Ambrogio Curti con Senti Questa e la grande musica italiana non raccontata dalla preparatissima voce di Ambrogio Curti. Domani mattina siamo ancora qui, dalle 7 alle 9, con Good Morning Milano. Grazie mille per averci ascoltato, grazie mille per i messaggi, grazie mille anche per averci guardato in video su Milano News. Ricordatevi, goodmorning.milano.it, c'è tutto quello che volete. Potete rivederlo. Ciao a domani!